Festa Ambiente Puglia, Lega Ambiente ha deciso di chiudere il festival a Bicca di Sui Monti Dauni, intanto perché qui? Perché è uno dei territori in cui si chiede anche alla regione di istituire un parco regionale, un'area protetta e visto che il tema di quest'anno dei Festa Ambiente Puglia sono proprio le aree protette siamo venuti ad arrivare in questo territorio dei Monti Dauni proprio per lanciare questo messaggio molto importante perché già il territorio di suo ha questa ricchezza del patrimonio del bosco dei Monti Dauni e quindi è importante anche tutelarlo attraverso un parco regionale inoltre il tema di questa tappa sono le energie rinnovabili e le comunità energetiche perché questo territorio è stato uno dei primi ad avviare la comunità energetica e inoltre è un po' il cuore delle energie rinnovabili con l'eolico, la provincia di Foggia e soprattutto questo territorio è ai primi posti per produzione di energia rinnovabile Mario De Angelis, i Monti Dauni sono pronti per ospitare il primo parco regionale? Ma sì, questa è una domanda insomma difficile, sì, siamo pronti penso che comunque il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato un lavoro propedeutico appunto perché si possa eventualmente arrivare a un risultato così importante valorizzare questo territorio e l'idea di realizzare un parco potrebbe essere insomma una buona diciamo chiave di lettura e soprattutto un buon inizio di un percorso che sicuramente ci premia dopo tanto tempo, dopo tanto lavoro Gianfilippo Mignogna sindaco di Biccari, Lega Ambiente ha scelto Biccari, ha scelto il bosco di Biccari per chiudere la serie di appuntamenti con Festa Ambiente Puglia e per lanciare l'idea proposta di istituire un parco dei Monti Dauni proprio partendo da qui Siamo molto contenti di poter ospitare Lega Ambiente e questa manifestazione così importante con un tema che ci sta particolarmente al cuore che è quello dell'istituzione del parco dei Monti Dauni crediamo che sia lo strumento necessario per dare ulteriore forza ad una destinazione ambientale che in questi anni è cresciuta e che merita di essere tutelata e valorizzata È un'idea che avevamo già in mente da tempo, ci stiamo già lavorando con alcune sottomisure che c'erano già state finanziate e sicuramente è un progetto ambizioso che ci vedrà impegnate nei prossimi anni